Ciao a tutti ragazzi, sono Pander e benvenuto in questo nuovo video Dobbiamo parlare di una cosa molto seria e molto bella Sono con Fishwarden e Stormjets Ciao Sono E niente, si stanno finendo tutte le preparative Cioè, parlo per Storm, no? Si sta finendo tutte le sue preparative Tutte le ultime configurazioni Perché il server domani aprirà Potrebbe aprire a qualunque momento E comunque in descrizione trovate il link per votarlo Da domani votate di brutto Perché almeno sale in vista Cazzo, oh, il server di Storm dove qualcuno Qualcuno Chiunque ha che rivera Ah, che rivera pulito, si va bene Insomma, abbiamo inteso Dove lo staff sarà presente Magari ci saranno eventi anche Come si può dire Aiutatemi Eventi? Miniera, corsa, parkour Ma poi, vabbè A partire Tante nuove Tante nuove Ci saranno eventi che Fuori dalla portata di Fuori dalla portata di tutti Eventi Cioè, eventi fatti da Storm Ma non eventi fatti da Da un player qualunque Cioè, Stormjets Vero Stormjets Vero Stormjets Vero Stormjets Vero Stormjets Mi sa che stai gestionando Non serve come tanti altri Vediamo se va bene Come parte Che partirà con Con una marcia in più Perché lui è Stormjets Sì Ci sarà tutto col Eh, dimmi, dimmi No, no, io stavo salutando Stai già salutando, chiedendo? Sì, tanto non dovevo dire nulla Volevo solo Per preparare No, ragazzi Indietro col server Che Per un fatto Dai Fatti tecnici Che Cioè Rendere possibile Connettersi con MC.RevengeLand.it Che serve l'IP Cioè Non sarà possibile Farlo all'inizio Diciamo Per le prime ore Perché c'è stato Un grande ritardo Nel servizio Sì Mi sa che all'inizio Sarà possibile Connettersi solo Con l'IP numerico Beh, alla fine Non cambia niente Cambia solo che Magari uno ve lo ricordate A memoria L'altro no Sì, sì Ma comunque Entro pochissimo Sarà In servizio anche l'altro Con il server E' una batteria Buttando i plug-in In una cartella Accendiamo il server Partiamo Niente Quindi State pronti Al devasto Se volete iniziare In un server In un server Serio Davvero State pronti Perché Il server serio Lo state trovando In description No, scherzo Dai, veramente Io Sto dando Sto dando Molta fiducia Storm Perché Comunque lo conosco E so che è una persona Che fa le cose in modo Tanto se sentite Casino E' gente fuori Che sta facendo Dolcetto scherzetto Gli ho già fatti scappare Dalla porta di casa mia Vabbè Votate il server Almeno Prende subito Visibilità Tra i primi Anche se non Tra i primi 10 E tra i primi 20 Viene visto subito Sono sicuro Che andrà Andrà bene Già dall'inizio Io vi saluto Vi saluto Anche questi altri Se vogliono Ciao 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 ragazzi Bella Ciao 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 Grazie a tutti.